La Regione Abruzzo ha finalmente una legge per l'istituzione delle comunità energetiche. Il testo approvato è l'unione della proposta di legge presentata dal consigliere regionale dei 5 Stelle, Francesco Taglieri, e di un disegno di legge regionale della maggioranza. Un fatto importante è perché la legge ha avuto l'approvazione di tutto il Consiglio. C'è da dire che la proposta di Taglieri è di circa un anno fa perché il tema è caro al movimento a livello nazionale e fa parte della linea difesa del territorio portata avanti a livello locale, ben prima della guerra. La legge però in questo momento è significativa perché la Regione avrà uno strumento utile per contrastare la crisi energetica, incentivando la produzione e il consumo di energie rinnovabili pulite, che fanno bene all'ambiente e alle tasche dei cittadini. La Regione dovrà fornire gli strumenti normativi per favorire la creazione di modelli che permetteranno alle piccole aree territoriali di ripensare la gestione dei fabbisogni, favorendo l'autosufficienza energetica. I comuni avranno il compito di proporre, attraverso la predisposizione di protocolli di intesa a cui possono aderire soggetti pubblici e privati, la costituzione di una comunità energetica. Sarà invece compito della Giunta, con appositi provvedimenti, definire i protocolli di intesa che i comuni devono adottare. Uno strumento importante per i cittadini abruzzesi, uno strumento che da tempo si aspettava e che oggi capita in un contesto storico particolare, dove la crisi energetica avrà uno strumento in più a favore di quelli che sono gli abruzzesi che potranno produrre energia e addirittura rivenderla in un autoconsumo e in un'autogestione che favorirà sicuramente tutti all'interno dei territori in quelle che sono comunità che non riguarderanno più soltanto temi come il sociale o temi di qualsiasi altra evidenza, ma anche per la produzione di energia. In Abruzzo, da oggi, le comunità energetiche sono una realtà. Le reazioni sono state tante. Una notizia positiva per i cittadini, ha commentato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Soddisfatto pure il capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, che parla di una norma che ha una risposta concreta per contrastare l'aumento dei costi energetici. Il capogruppo della Lega, Vincenzo Lincecco, ha ringraziato l'assessore Campitelli e il gruppo della Lega, che ha lavorato affinché fosse approvata la legge. Campitelli, dal canto suo, ha ribadito che la legge è la sintesi di un lungo e complesso lavoro di giunta e assise regionale. L'assessore ha spiegato che sia tra i primi in Italia a legiferare in questo senso.